È una lotta senza quartiere nel vero senso della parola, quella tra amministrazione comunale di Varese e Lega, con quest'ultima che abbandona in polemica i parlamentini locali, definendoli fallimentari. Abbiamo deciso di abbandonare i consigli di quartiere, ma ovviamente non abbandoniamo i quartieri. Il partito tiene un canale aperto con la cittadinanza, nella storica sede di Piazza del Podestà o alla casella di posta Varese di LolaLega, chiocciola.gmail.com. Intanto però la maggioranza passa al contrattacco. La Lega è sempre più distante dal territorio, sentenzia il PD Giacomo Fisco, mentre l'assessore all'ambiente Nicoletta San Martino riafferma l'utilità dei consigli di quartiere. Neri Oni dice, sto raccogliendo suggerimenti e partecipazione, forse è proprio questo che infastidisce l'opposizione.